Caltanissetta, o meglio l'inaugurazione della bretella della A19 che congiunge Palermo a Catania, sarà una delle tappe del quarto viaggio del Premier Matteo Renzi in Sicilia. Lo annuncia direttamente il Primo Ministro. Prima il Premier farà tappa a Palermo, poi, spostandosi verso Catania, si fermerà a tagliare il nastro del raccordo che da Caltanissetta arriva all'autostrada Palermo-Catania, che fa parte del raddoppio della strada stagiale 640 a Caltanissetta-Agrigento. E su Twitter già il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone scrive Matteo Renzi sabato in Sicilia firma il patto per Palermo e Catania, grande impegno per la Sicilia e per le sue infrastrutture. Il Premier ha già stato in visita a Gela, a termini merese nell'agosto del 2014, nel suo tour fra le zone italiane in crisi, poi a settembre a Palermo, a Brancaccio, per l'inizio dell'anno scolastico e a Mondello per visitare lo start-up Mosaicon. Qualche settimana fa il suo arrivo a Lampedusa. Stavolta due tappe, Palermo e Catania, per completare la firma di quei patti per la città che serviranno ad utilizzare in modo efficace e veloce i fondi europei. Non si hanno ancora dettagli del suo passaggio in provincia, nei tempi e nei modi. Probabilmente tutto sarà più chiaro nelle prossime ore.